Proseguiamo con le premiazioni. Allora, terzo posto, terzo posto, Serena Mastro Rosa, numero 13. Allora, signori, voglio un ringraziamento per Teodidi e lo sponsor, l'ufficiale di questo concorso. Grazie a lui, tra queste ragazze, le prime tre classificate, partiremo domani per la Grecia, per una settimana, per fare il calendario Indas 2005. Ringrazio di cuore Teo per questa grande possibilità. E sarà tu a premiare il mister Indas Puglia. Seconda classificata, Nancy Spaccina. Le buste sono uguali, Presidente. Tutte e tre uguali. Vengono in Grecia. E adesso il risultato più atteso, da Sabrina De Vigo, Miss Indas 2003 a Miss Indas 2004. Non lo so leggere. Stefania Frisa! Stefania Frisa! Stefania Frisa! Stefania Frisa! E quindi la nuova regina di Indas è proprio lei. Facciamo scambiare qualche battuta, magari con la nostra care. Ecco, abbiamo Miss Indas, le due Miss oggi. Siete ancora tutte e due Miss, per qualche istante. Allora. Grazie, veramente, ti frutto. Ce l'aspettavi? No. Ma perché ne c'è sempre no? Ehi, mi chiedi. Pessimista, non ce l'aspettavo. Complimenti comunque. Un applauso a Miss Indas 2004. Siamo in chiusura di questa bellissima serata. Io voglio ringraziare la Pele, le voglio riparare con Marco. Complimenti a tutte le ragazze che hanno partecipato. Un grazie di cuore al risponso. Grazie a Francesco Altomare, grazie a Marcello Altomare, a tutti coloro che hanno collaborato a questa magnifica...